Da giorni sciopero della fame per avere risposte sul suo progetto e sulle richieste di subconcessioni nel Sasso Caveoso per ampliare la sua attività alberghiera diffusa. Protagonista della protesta, l'imprenditore turistico di Matera Fabrizio Zampagni. Circa 13 anni fa ha chiesto a sua volta alcune subconcessioni per utilizzare alcuni fondi europei e ampliare l'albergo, ma la mancata approvazione di un piano attuativo bloccò tutto. Circa due anni fa poi la sua pratica finì ad un altro funzionario del comune che, ha raccontato Zampagni, chiese tempo per studiarla. Nell'attesa però avrebbe perso un finanziamento di 240 mila euro. Mi si concedono dei locali con la clausola che niente potrò richiedere a rimborso per i lavori fatti di ristrutturazione qualora il comune intenda riprendersi i locali. Siamo alla Repubblica delle Banane. Zampagni, che andrà avanti nella protesta almeno fino a domenica prossima, giorno del ballottaggio per l'elezione del sindaco, ha anche annunciato che presenterà una denuncia alla Procura della Repubblica per abuso d'ufficio nei confronti delle amministrazioni comunali dell'ultimo decennio per irregolarità nell'assegnazione di subconcessioni negli antichi rioni della città.